La sanità ospedaliera molissana si ribella e scende in piazza, disposta a fare anche le barricate per difendere i 500 posti di lavoro dei precari, a rischio di tornare tutti a casa dopo la bocciatura da parte del governo Renzi della sanatoria, varata in fretta e furia da Paolo Frattura. Ma non ci sono solo i precari da difendere, né l'iniziativa presa dalla NAOM, Lise e dai comitati civici nati in difesa del Veneziale e del Cardarelli. La protesta, che si articolerà in due momenti, il primo alle 10 davanti alla ASREM e il secondo subito dopo davanti alla sede del Consiglio regionale, prevede anche una forte presa di posizione in difesa della sanità pubblica ospedaliera. Questa mattina esegna la conferenza stampa di presentazione, a cui hanno partecipato anche esponenti del mondo politico locale, che hanno dato la loro solidarietà all'iniziativa. Ma sentiamo le voci degli organizzatori. I motivi sono chiari, semplici e distinti. Uno sotto l'ASREM per la questione dei precari. La NAOM chiede che, fin tanto che non si attui un piano di rientro approvato sul tavolo tecnico e di conseguenza l'atto aziendale in funzione di questo piano di rientro, il rinnovo fino al 2018 a tutti i precari, sia quelli che usufruiscono del DPCM approvato dal governo in attuazione della legge Balduzzi, sia per tutti quegli altri che non rientrando, comunque, hanno necessità di mantenere una certa offerta di sanità, che è minimale rispetto alle esigenze dell'utenza. L'altro sit-in che si terrà sotto il Consiglio regionale è in funzione di questa proposta di disegno di legge regionale sulla riorganizzazione e gestione della sanità, che a nostro parere appare esclusivamente un modo per poter trasferire sull'azienda ospedaliera l'attivo e l'azienda territoriale invece il passivo. Ci dovrebbero essere tutti i sanitari della regione, in particolare tutti i precari della regione, a questi si associano anche il personale paramedico, sia infermieristico che ausiliario, perché una scelta del genere porterebbe sicuramente al blocco della struttura pubblica, perdere 500 precari o poco più in base a queste scelte implicherebbe sicuramente che la struttura pubblica non riesce più a funzionare, e quindi una privatizzazione di fatto. Il Comitato Pro Cardarelli ha aderito alla manifestazione indetta dai precari. Tra i precari 62 sono solo in servizio all'ospedale Cardarelli, il che vuol dire che anche per quanto riguarda in particolare il Cardarelli, il venir meno di tanto personale significherebbe un'ulteriore difficoltà al personale sanitario.